Amiche e amici di Bonsai TV, io sono Marvi di Match in the City e vi do il benvenuto al secondo episodio di Tinder Education. La prima guida genderless a un utilizzo consapevole delle dating apps. Riassunto delle puntate precedenti. Vi abbiamo già parlato di quanto sia importante l'avvio. Beh, anche la scelta delle foto non è da meno. E quindi in questo episodio vi parleremo di come scegliere la, o meglio, le foto per il vostro profilo. La foto con l'animale di turno, immagini di gruppo, filtri, selfie da posere, bambini. Una ricerca della dating app Inner Circle ha stilato la classifica delle foto che piacciono di meno sulle dating app. Andiamo a vederla. E c'è lì con i filtri? Per il 43% degli intervistati non è un segno di creatività, perché sembri un fake. Bello il paesaggio, ma tu dove sei? Troppe immagini senza l'utente non piacciono al 36% degli intervistati. Hai messo una sola foto? Male male. Per il 35% non è un buon segno. Vedi mai fosse l'unica venuta bene. Foto con gli occhiali da sole o cappelli? Al 29% non piace giocare a nascondino. Sembrare diversi in ogni foto? Il 24% non ama giocare a come sei veramente. Foto di scarsa qualità? Attenzione, il 23% degli intervistati non le apprezzerebbe. Bello il gruppo, ma tu chi sei? Il 23% non apprezza quando ci sono solo foto di gruppo, anche perché non stiamo giocando a indovina chi. Foto a torso nudo o in costume? In certi contesti potrebbe anche funzionare, ma l'11% non apprezza quando ci sono foto con troppa nudità. Fanatici dei selfie? Non sempre può tornarti utile. Al 9% degli intervistati, infatti, non piace. E per ultimo, a tutti piacciono i bambini, più o meno. Ma non quando sono sui profili di dating app. E adesso andiamo sul concreto. Quali sono le foto migliori da scegliere per il proprio profilo? E qualcuni consigli fondamentali. Anzitutto, premessa basilare. La foto ci deve essere, altrimenti sembri un fake e nessuno vuole chattare con un fantasma, no? La grande domanda, ma quante foto devo inserire? Beh, non c'è una regola predefinita, però più foto inserisci meglio è, perché ti servono per dare diverse sfaccettature di te come persona ed essere umano. Utilizza foto prese da contesti diversi della tua vita, non solo il lavoro, ma anche i tuoi hobby, le tue passioni, esperienze che hai fatto, perché queste foto possono fungere da spunti di conversazione per la chat. Allora, che ne dite? Vi piacciono le foto che avete usato per il vostro profilo o dopo questo video andrete già a cambiarle? Fatecelo sapere nei commenti. Adesso iscriviti al canale, metti mi piace a questo video e corri a matchare la tua persona ideale.